Approfittiamo di queste giornate di sole, fa un po' caldo, ma d'altronde ci si lamenta sempre se è caldo, se è freddo. Queste temperature inusuali la preoccupano oppure no? No, a dire il vero non mi preoccupano, perché sento da persone anziane che ci sono stati questi periodi anche anni addietro. Se sono bellissime, sarebbe bello durare tutto l'inverno. Lui mente perché sta aspettando la neve in effetti. Sì, ha protestato fino adesso. Siete friulani della città? Di Udinen, nati a 100 metri da qui. Ma un salto al mare lo farete questo weekend oppure no? Stagna, ormai la montagna. Ma siete un po' preoccupati per questi cambi di temperatura oppure no? Sì, al di là del piacere che ci può essere a stare in giro in una giornata così, che è evidente, che è piacevole. Però se puoi fare un ragionamento un po' più profondo, siamo preoccupati sì. Sicuramente il clima è cambiato. Una volta era sempre primavera, l'estate era estate, l'inverno era inverno. Adesso l'inverno non c'è più. Mi approfitterà oggi per fare che cosa? Quindi una passeggiata qui in città? Faccio una passeggiata e dopo vado a un compleanno. Grazie a tutti.